Secondo me di tattica non ce n'è stata tantissima, penso che eravamo tutti i giri tutte un po' a blocco, quindi è stata un po' una gara eliminazione, nel senso che ogni giro vedevo che qualcuno mollava, io ho cercato di tenere il ritmo un po' alto per fare la gara dura e avere il gruppetto sempre un po' più piccolo perché all'inizio di ogni discesa era un po' una guerra per entrare davanti quindi niente dai, sono contento della mia gara, è un secondo posto che oggi vale molto Pensavi di poter rientrare sulla Coppa di Testa? No, no, visto quando hanno accelerato avevano una marcia in più, facevano una gara a parte, però vabbè dai, giusto così va It took me like five years to get another in and it's just amazing feeling and I'm really proud that I still kept believing in myself and keep pushing in the training and yeah, I just, unreal Yeah, it's really nice to race against Titua, it's technically really good, it's hard to follow him in the downhills and it was nice actually to see his lines and yeah, I think we will have many more battles the weeks and months and years to come And action! Siccome mi hanno chiesto la intro questa volta, siamo a Capoliveri per la seconda prova di Internazionale d'Italia Series Alla mia destra c'è Massimo Ghirotto, presidente della federazione del settore fuoristrada forse conosciuto per la sua vita precedente da team manager illustre e alla mia sinistra c'è Marco Aurelio Fontana, l'abbiamo già visto nella prima prova di San Zeno di Montagna Perché sono come il pistacchio, hai detto no? Perché come il pistacchio è da oggi soprannominato Marco Bronte Ciao a tutti, ciao a tutti e ciao Massimo, sono molto contento Massimo è stato il mio direttore nel team Bianchi Countervail, quindi è un piacere stare seduto qua con te E anche da parte mia, grazie dell'invito Grande, grande Massimo, anche perché voi due insieme quanto... Due anni, abbiamo fatto due anni e devo dire che ho imparato tanto da Marco, onestamente Grazie, grazie, anche io ho imparato tanto da Massimo Ci sentiamo comunque con una certa frequenza perché siamo rimasti molto amici Ci scambiamo anche piccoli pareri e opinioni su tante cose, quindi via, partiamo Io se non ti dispiace parlerei della gara Perché oggi abbiamo visto veramente delle gare, Massimo Dal mio punto di vista, incredibili Io ho trovato un filo conduttore nella maggior parte delle prove che è stato un senso di rinascita Perché abbiamo visto Martina Berta che, al di là del fatto che abbia fatto seconda dietro a Nicole Coller Comunque anche la Coller ha segnato un grande ritorno E poi, dalla parte invece maschile, Andrea Svittone che è arrivato in lacrime perché finalmente è riuscito a trovare quelle sensazioni giuste che non trovava da tempo Cosa hai visto in questa gara, Massimo? Beh, intanto ho visto una gara di eccellenza Eccellenza sotto il profilo del percorso, sotto il profilo organizzativo e sotto il profilo della partecipazione Per quanto riguarda poi i risultati, li hai anticipati già tu Veramente l'Italia oggi si è fatta vedere, è bene Vittone, ma non solo Vittone che in qualche modo aspettavamo tutti perché era un po', si era un po' perso Esatto, esatto Ma con la prova di oggi forse quella famosa parolina che è l'autostima ritorna Sì, sì, diciamo che il suo infortunio dell'anno scorso l'ha messo veramente alla prova Io credo anche da un punto di vista proprio psicologico E lui ha cercato in questi mesi, mi ha detto prima, questo inverno ho cercato di ritrovare me stesso Le sensazioni non erano comunque buone e oggi invece, cavolo, ha dato delle belle dimostrazioni Non so, forse questo clima ha anche di Capoliveri gli ha dato una spinta in più Vittone è un pilota giovane, talentuoso, con una velocità pura, bella, bella, bella fresca Cioè ce l'ha e non dimentichiamoci che due anni fa qui Vittone è andato da paura Cioè su questa pista si trova bene e mi ricordo proprio la prima volta che l'ho visto tra i grandi, forte, è stato proprio qui all'isola d'Elba Quindi non mi ha sorpreso questa cosa È vero che ero un po' in difficoltà, io l'ho visto alla prima degli internazionali C'era da un po', sai lui, un po' omogeno Si abbatte, si abbatte molto Però è indubbio che gli avevo detto guarda è ancora marzo, la stagione è lunga Ghiro lo sa, i corridori, la cosa più difficile per un corridore è aspettare Cioè nessuno ha voglia di aspettare Per Martina Berta invece collegandomi alla breve intro che hai fatto Martina si era fatta male qui Quindi la sua rinascita è data dal fatto, magari lo diciamo per chi non lo sapesse È data dal fatto che qui si era fatta male e qui io l'ho vista confident Cioè ha passato a livello di testa questo suo ostacolo e ha fatto una gran bella gara Poi quello era andato più forte però insomma è arrivata seconda, è arrivata vicino Parole di Martina, io oggi finalmente ho chiuso un capitolo Perché è stato difficile correre questo weekend Però qui tutto è iniziato, l'infortunio, appunto quella rinascita Quella voglia di tornare e oggi cavolo chiudere su un percorso del genere In seconda posizione, comunque sempre lì Perché alla fine la gara femminile si è delineata a due giri dalla fine Quando poi la Svizzera ha veramente aperto il gas Però erano sempre lì Beh Martina Berta ha fatto anche una trasformazione fisica nel senso Bravo esatto Ha perso del peso ed era quello che lei cercava Ed è riuscito a trovare quella potenza Adesso in termini tecnici la spiego in modo così potenza Che gli permette di Prima mi hai spiegato tutto i numeri Sì, per carità, non entriamo nei numeri perché poi magari faccio e dico qualcosa Ma però il senso è questo Ha ritrovato veramente la forza che lei sa esprimere Non dimentichiamo che lei ha vinto un campionato del mondo anni fa da junior 2015 Quindi devo dire il talento è là Ma anche la Giada Spezia ha fatto oggi una grande gara Attenzione Sì Altri ragazzi molto interessanti Trend completamente invertito perché nella prima fase di gara Nella prima fase di gara c'erano tre atleti svizzere e due italiane Alla fine Sina Frye, Linda Indergan si sono un po' tirate indietro O meglio non avevano forse abbastanza gambe E sono rimaste appunto Giada Spezia come ha detto Massimo, Martina Berta e Nicole Koller Forse a Giada è mancato proprio qualcosina sul finale Però consideriamo che è sempre al primo anno tra le Elite Sì, io non so quanto abbia limato la Giada O meglio, questo percorso è stupendo, da fare è pazzesco Da vedere è incredibile, è unico Non è facile seguire il percorso a piedi ad esempio Quindi io mi sono un po' perso Alcune sfaccettature, cioè non sono riuscito a vederle Io personalmente Rimandato a settembre allora Ok Per lo dirlo Fontana Questa è clamorosa Quello che voglio dire è che bisogna anche essere sinceri Non è facile, vedi le facce, vedi come si muovono, vedi le posizioni Però non è facile vedere quanto uno lima E secondo me questo era un percorso da limatori Chiaramente molto fisico, molto impegnativo Però si è velocizzato dagli anni precedenti Perché ha più sponde, ha più salti Quindi c'era più possibilità di mantenere la velocità La pioggia in realtà secondo me ha facilitato la pista Ha velocizzato il percorso È vero che le donne sono partite dopo gli junior E forse all'inizio abbiamo visto anche qualche cartella Perché comunque non è un percorso facile Però di base il percorso dopo la pioggia E il modo in cui è disegnato È un percorso che è un po' una piccola coppa del mondo È un percorso dove si prende abbastanza monolinea Cioè non è il percorso dove ti inventi tanto Quella è la linea veloce, quella è la linea che tieni Quindi devi limare L'abbiamo visto poi nel corso della gara Come alcuni atleti sono venuti fuori Giada Specie secondo me ha fatto una gara pazzesca Perché non è forse la più brava tecnicamente tra quelle davanti È molto giovane quindi si può ancora imparare Ma comunque è riuscita a gestire il percorso Ed è arrivata vicino a Martina Martina che per me è tra le tre più brave al mondo Usare la bici Quindi è stata molto brava insomma Come diceva anche Massimo Però effettivamente la differenza secondo me è stata proprio lì Allora Nicole Koller forse oggi Proprio su un altro pianeta Perché si sono invertite molto Lei, Martina e Sina È stata più generosa la Martina rispetto alla Volpona a Svizzera Forse sì Non ha limato abbastanza Esatto Anche perché a fine gara a Martina ho chiesto proprio come fosse andata E mi diceva perché io pensavo che fosse stata una gara abbastanza tattica L'abbiamo viste tutte lì, gruppetto di 5, poi gruppetto di 4 Mi ha detto tattica 0, rasoiate totali ad ogni giro, ogni salita eravamo a tutta Lei ha provato ad accelerare in 3-4 occasioni E poi Nicole alla fine ne aveva di più Ne aveva veramente di più Da come ho provato la pista io Ripeto Io ho cercato di divertirmi Quindi l'ho presa molto creativa E visto saltavo di qua di là Logicamente questo era un percorso dove dovevi cercare di andare veloce e basta La pista era fisica e non ti permetteva di giocarti troppi jolly Cioè se tu avevi 4 carte nel mazzo, 4 te ne giocavi Alla quinta saltavi, cioè l'altro ti lasciava al vento Perché è un percorso dove ti sembra di andare forte perché se andava forte Poi facevi 60 all'ora, curvavi ed eri fermo E tutte le volte devi rilanciare È veramente impegnativo a livello fisico E quindi secondo me uno che ci provava Dai uno, dai due, dai tre Non ti permetteva di andare fuori giri la quinta volta Se ne avevi 4, finite le cartucce Quella benzina era spesa E quando cara la benzina Devi andare al tuo ritmo, no? Giusto Marco? Esatto, esatto Sì sì ma infatti secondo me alla fine Martina ha fatto bene così a gestire la gara in questo modo Comunque è stata una bella soddisfazione No ma sei anche l'altra valutazione che metto sul piatto Per coloro che ci stanno guardando È un anno importante perché il prossimo anno ci sono le Olimpiadi Urca, vero Anche i punti UCI Marco Tu hai sempre fatto i conti con questa roba qua Per arrivare a conquistare una maglia Per avere un posto a livello nazionale Sono fondamentali Queste sono gare HC Di punti ce n'è talmente tante Che servono Sì sì sì, esatto Per cui gara donne secondo me è stata veramente combattuta Forse anche proprio per questo aspetto Abbiamo visto al di là delle ragazze italiane Tante 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 svizzere C'erano comunque atlete anche come detto tu Massimo Anche dall'estero appunto Per fare punti e per godersi alla fine Sì c'era Caroline Bue che aveva il numero uno Di Ghost Abbiamo un parterre pazzesco Avevamo la vice campionessa olimpica al Via Avevamo un parterre incredibile tra le donne Non che degli uomini fosse tanto da meno Ma tra le donne faceva paura E posso dirti che sono ogni volta piacevolmente stupito Di come vanno ste ragazze in giù Cioè hai visto Adesso non voglio dirti che il primo giro Sono passate più forte degli uomini Giù dalla pietraia Ma sono passate forte Sono passate forte Secondo me non c'era una grandissima differenza Ma no perché la pista ti ripeto La mia analisi è che è una pista Una mini coppa nel senso che È stretta per essere una coppa È una gara abbastanza stretta Quindi non hai tanto largo Come magari si vede a Novo Mesto Però il concetto è Che diventa col passare dei giri Col passare delle prove Una pista abbastanza monolinea Quindi perché vedi delle velocità simili? Perché tu non vedrai quello che salta da lì a là Quella è la linea Quella la prendi C'è qualcuno che ha qualcosa in più Però giocando sull'economia Ti ricordi ieri cosa abbiamo detto con Nino? È una pista dove devi cercare di consumare poco Anche se è impegnativo Devi consumare poco qui Perché è inutile che dici Faccio il matto a scendere La discesa dura 28 secondi Quando ce ne hai messo 28 E quell'altro 29 e mezzo Hai un secondo e mezzo Ma qua sotto hai il cuore a 180 battiti Nino Schurter arriva a 140 Gira l'angolo, li sale E ti saluta E ti saluta, esatto E comunque diciamo che io ho un po' temuto Perché onestamente ieri Si è abbattuto su Capoliveri Sulla zona qua del bike park Veramente un temporale Mica da poco Io stamattina quando mi sono svegliato Ho trovato la grandina in giro Ho detto Calvo chissà come sarà il percorso Tu cosa ti aspettavi Massimo? No effettivamente poi stamattina Quando ci siamo riuniti per la corsa degli junior Questi junior series Quasi 150 partenti Tanti tanti C'era un livello altissimo E come vanno Come vanno E abbiamo fatto una riunione Per capire come andare a parare Su un percorso che era molto scivoloso E' molto difficile Quindi si è pensato di chiudere la parte più tecnica Poi è arrivato il bel tempo Si è aperto E a quel punto lì Capoliveri meritava Gli atleti meritavano questo percorso In termini di sicurezza è importante Cioè c'è sempre Questo aspetto che va considerato Quando ci sono delle condizioni critiche Torno un attimo indietro E qua chiedo anche il parere di Marco Perché le donne secondo me hanno fatto un miglioramento In tutti i sensi Ma anche perché hanno delle biciclette adesso Che non erano quelle di una volta Quindi anche quello credo Immagino Si 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 Senza ombra di dubbio Soprattutto perché la donna prima Avendo meno potenza dell'uomo Sfruttava sempre la bici rigida Corre gisella dritto Perché? Perché dice Se io peso 50 kg col cappotto Come diceva mia nonna E voglio una bici che pesi 7,9 kg 8,2 kg Quindi non avevano la full Non avevano il telescopico Magari non davano importanza A questo tipo di tecnicità Poi è arrivata la scuola nuova Con Yolanda Neff Con tutte queste ragazze Che andavano come le ventole Le ragazze hanno passato Un passaggio che anche degli uomini Hanno dovuto fare Io ho sempre corso con la rigida Regista da dritto Quindi per carità Però magari a loro Avevano più bisogno Di andare su un mezzo Che ti permettesse Di fare queste cose In sicurezza Funzionale O meglio La gara era difficile Ci mancherebbe Delle persone sono anche cadute Faccio una parentesi C'è una ragazza che è caduta Tra le donne Ho parlato con il suo team manager Ha preso qualche punticino Poverino che ha dato Una facciata sulle rocce Meno male Ma fortunatamente sta bene Quindi chi avesse visto la gara Sono cose che possono capitare È una gara HC È una gara HC Devi avere un livello tecnico elevato Poi dopo Sia sempre qui a parlarne Però di base sta bene E quindi sì È vero Le bici li aiutano Il fatto che le donne Siano passate tutte Su delle full Col telescopico Le aiuta E il fatto che tante ragazze Abbiano adesso Il technical coach Ho visto per esempio Il fratello della Berta Che girava con la nazionale Per aiutare le ragazze Queste cose Su Nino Schurter Magari no Ma su una gran defetta Delle persone Fanno la differenza E comunque anche i top dogs Come li chiamo io Quindi Kennedy Factory Racing Per esempio Per dire un altro brand Ha il technical coach E questo fa fare un salto in avanti a tutti Qualità Ne parlavamo Ne parlavamo proprio ieri sera Con Nino Se ti ricordi Che questo è effettivamente Un aspetto Che ha cambiato La disciplina Alla fine Il livello tecnico Secondo me Dei rider Si è abbastanza Cioè si è elevato In maniera omogenea Forse anche Standardizzato Per certi versi Ma in su In su Esattamente E quindi Anche per questo Anche per il fatto Che comunque Si spende molto più tempo Sulle prove percorso Che ci sono delle figure Specifiche Che aiutano in questo Pensa anche Tibi Con appunto Con Martina Con i ragazzi di Santa Martello Con adesso Con i ragazzi della PR Esatto Quindi spendono Veramente Tanto tempo E alla fine Su un percorso del genere Come dicevi all'inizio Per limare Per riuscire a fare Un po' di differenza È fondamentale Anche perché Consumi meno E consumi meno Sia fisicamente Sia mentalmente Cioè uno che Ha la capacità E ha imparato A fare questa discesa Quando arriva in cima Non avrà quella cosa Che Stringe Si stringe tutto Che dice Capito Viene su E fa il percorso Come se fosse Una parte di percorso Come se fosse la salita Cioè affronto Anche a livello psicologico E emotivo Un tratto del percorso Come normale Io ce l'ho nel cervello Faccio da A a B E lo faccio Arrivo giù Curvo Se uno invece Non ce l'ha Non ha la confidenza Questo arriva su Il cuore Gli va a mille Si rigidisce Non tieni la posizione giusta E poi logicamente Vai giù Capito il maestro Sembra quasi Che abbia corso Qualche anno Non è stato Medaglia olipica Per nulla Assolutamente Però ammetto Che è facile Parlare da fuori Ammetto Ammetti Però anche ieri Ci hai mostrato Delle linee Che Mannaggia Non l'ha fatta nessuna Anche oggi Saltavo tutti i sassi Sul finale Però Ripeto Io sono qua A fare il mio ruolo E devo dire la verità Mi piace sempre di più Perché giro in pista Vedo le linee Mi diverto Sono qua Per dare anche Un po' di spettacolo Perché sono ancora Un sacco di fans Ed è molto bella Questa cosa È indubbio Che come Come ho detto Poc'anzi È più facile Stare qua Girare Cercarmi le linee Creative Saltare Fare lo stupido Con la bici E non dover Cioè io se rischio Se casco Al massimo mi sbuccio E se ne frega Non è la pressione addosso È un'altra cosa Ma un'altra cosa Però le condizioni Di oggi Marco Del percorso Secondo me Hanno favorito Veramente Anche l'aspetto Sicurezza Come dicevi tu Prima Ghiro Perché alla fine Oggi la pista Era veramente battuta Veramente scorrevole E secondo me Tanto grippante Perché poi La particolarità Di questa zona È che il terreno È proprio Carico di ferro Il primo giorno Il primo giorno Che ho girato A salire C'erano dei punti Dove facevi fatica A salire In bicicletta Perché è molto ripido Sono dei tratti molto ripidi E col secco che c'era Facevi fatica Quindi La pioggia ha aiutato Sicuramente la scelta Organizzativa Di dire Spostiamo le gare Di quel 40 minuti Un'oretta Ha permesso Di rischiare meno Perché poi Ripetiamo La mountain bike Non è Il golf Per cui È uno sport bellissimo Il golf Però ha sicuramente Un livello di rischio Diverso Quindi ci possono stare Le cadute Ma quando possibile Come quando hanno chiuso Il percorso Come quando hanno Fostecipato la partenza L'organizzazione Ha una grande responsabilità E quindi è corretto Prendersi queste tutele Ecco Assolutamente sì Per gli atleti Per l'organizzazione Per tutta una serie di cose Io passerei La gara uomini Ghiro Io so che tu Hai il cuore In un paio di parti Del gruppo Maschile Però voglio Sapere da te Magari potrei anche sbagliarmi Vorrei sapere un po' da te Com'è stata questa gara Come l'hai vista Io e Marco Ma l'avrei vista benissimo Anche tu Abbiamo fatto delle considerazioni Su quella Di San Zeno Diciamo che I nomi I nomi Comunque c'erano Quelli di San Zeno C'erano Poi ovviamente Davanti C'erano le cilindrate Quelle grosse Beh io Analizzo sempre Le gare Proprio dal di fuori Perché io non sono mai Stato un biker Anche se ormai Da 23 anni Frequento i campi gara E qualche atleta Di un certo livello Ho avuto la fortuna Di avere come Marco Come Absalom Come Kersbaumer Come Teocchi Insomma Io dico sempre Che sei Secondo me Questo è personalissimo Fuori da pianeta Uno dei più grandi Scouter Di tutta la mountain bike E Armida Non li conti tutti Su due Ma Sì Sì Per l'amor di Dio Io Prendo alto Mi fa piacere Allora diciamo il più grande Dai Allora diciamo il più grande No 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 Ma ecco Semplicemente Non si discute Vengo alla Sì Più alto magari No dice Thomas dice Che se ci sente Si arrabbia Thomas dice Un altro che è arrivato con noi Più alto Comunque Analizzo le gare Per quello che ho visto No poi Sul lato tecnico Marco Ne sa molto Molto più di me Però oggi Veramente Mi è piaciuto Intanto perché Ha vinto il campione Del mondo Sempre bello Vincere Veder vincere Una maglia ridata Ti prende sempre Come dire dentro No Sì Poi se fosse Magari in futuro Un italiano Meglio ancora Ma vincere Vedere vincere Il campione del mondo È qualcosa che ti lascia Una fotografia indelebile Concordo Ma i nostri italiani Però oggi Ecco Hanno fatto la sua parte Io qui ti volevo infatti Insomma Abbiamo visto Un campione È in carica Avondetto Andro 23 Andro 23 Che è passato per il Manu Elite Ha fatto una gara strepitosa Un po' controllata all'inizio E poi quando ha capito Che era ora Lato Ha una calma Sto ragazzo Che mi fa impressione È una calma Nell'approcciare le gare Ma lo vedi anche il giorno prima della gara Poi siamo tutti diversi Nel senso Tu hai avuto Mermida Che magari Poi hai avuto Absalom Persone diverse Anche adesso Logicamente sono cambiati i tempi Sono passati gli anni Ci sono personaggi C'è il Braidozio C'è il Colledani Che conosci C'è il Bertolini E c'è appunto Il campione del mondo Under 23 in carica Che è particolare Tutto easy Cioè tutto tranquillo E anche prima della gara Lo vedi abbastanza rilassato E poi però Per me corre tanto con la testa Te l'avevo già detto alla prima gara E comunque ti confermo Che è come È programmato La studia bene La studia bene Attenzione Avvon detto Ha vinto l'Europeo E il campionato italiano L'anno scorso Cioè tanta roba L'Italiano e l'Europeo mondiale Sì Tutte le maglie si è preso E questo Per uno che Legge i numeri Solamente i numeri È una statistica importante Sbaglia poco Questa statistica Con i numeri Vuol dire che Questo ha futuro Per me Sì E poi sai cosa c'è anche Tornando al discorso tuo Marco Lui è anche molto umile Lui proprio Tu gli parli Alla fine Della gara E dici Cavolo sì Ho fatto una gara Veramente spettacolare E lui dice Sì sì Io ci ho provato Devo dire che Inizio gara Sono andato Forse un pochino Troppo piano Poi Mette sempre il treno Sì sì Poi ho cercato di rientrare Sì Io ho detto Cavolo Eri dietro Tituankarod E Nino Schurter Ecco Su questa cosa qua Marco È un maestro Perché ha sempre avuto Come dire Ha sempre alzato l'asticella Anche nell'atteggiamento Che è importante Perché comunque Tu credi Sempre in quello Che hai in testa E nel progetto Poi Il mountain bike Può andare bene Può andare male C'è la caduta C'è la foratura C'è la giornata nera Però Bisogna credere Non arrivi Non arrivi Se tu non vedi Non credi Non fai ogni volta Un passaggio Anche ad aprirti le spalle No Dici Boh Prima sono con questo Poi sono con quello Poi sono con Carò E Schurter Che sono indubbiamente I due più forti I due più forti al mondo Perché Carò L'anno scorso Ha avuto delle giornate Dove Permetti Ghiro Io lo dico Ma per me Carò è il nuovo Absalon Cioè Carò ha un modo Di andare in bici Un modo di attaccare Un modo di pedalare A me ricorda tantissimo Julien E voglio dire Julien ha vinto tutto Come Nino Insomma ha vinto tutto Quindi Sono due fortissimi Stare dietro questi due Insomma È tanta roba È chiaro che È un percorso da condizione Quindi Questi due avevano qualcosa in più E prima o dopo Quando hanno voluto Prima o dopo Insomma Sono andati Parlavo con Daniele Braidot Un altro che Inizio gara È stato avanti Ha fatto veramente una bella gara Anche lui Ma l'avevamo già visto A San Zeno Che ha martellato Veramente come un fabbro Ha detto A un certo punto Io ho provato I primi due giri A stare davanti A controllare Comunque a un ritmo elevato Ma quando Nino Ha aperto in salita Sembrava che il suo gas Fosse infinito Cioè Secondo la manopola Devi girare due volte Sembrava l'allungo C'è l'allungo Sì Ed è andato Ed è andato via Così Cioè È stato proprio dirompente Ma Un altro aspetto bellissimo Secondo me Dell'atleta Che ha nominato Ghiro Di Avondetto È che è arrivato Davanti E ha staccato Nadir Colledani Che come dicevamo Esatto Come dicevamo A San Zeno E l'ha dimostrato anche In appuntamenti successivi È veramente informissima Ora Mi viene da mettere in dubbio Ciò che diceva Marco L'altra volta Che è L'italiano più forte del momento Se Simo va così Allora è Simo L'italiano più forte del momento Sì Anche se comunque Luca Attenzione Oggi magari Non ha trovato La giornata giusta O forse Magari È un periodo Di recupero Prima parlavo proprio Con il suo Toy Manager Dice Vuole correre Vuole È generoso Vuole correre Poteva anche stare a casa Sono d'accordo Ci sono dei momenti Che dobbiamo scegliere Quando si parlava con Marco Abbiamo sempre detto Marco Alle corse si va per andare Convinti Se no si sta a casa Cioè se fa parte del programma Se è una fase di crescita È un conto È chiaro che C'è tutta una serie di motivi Per cui un pilota Può andare a fare una corsa Però Magari te la metto Collegandolo Alla stagione olimpica Che diceva Alghiro Fosse la stagione olimpica Secondo me Luca Braidon Non partiva oggi Per come sta Nel senso Io gli ho parlato ieri Mi ha detto Guarda Non sto bene Non sono stato tanto bene Nelle ultime due settimane Non ieri Nelle ultime due settimane Vuoi che cala un po' questo Sai Un mille motivi Non ci può stare Non deve dimostrare niente a nessuno Fosse stata la stagione olimpica Oggi secondo me Luca Personalmente Non partiva Perché Oggi ha voluto magari Onorare il fatto che I ragazzini lo volevano vedere Gli sponsor Aveva la maglia La serie Aveva la maglia Tutta una serie di cose Però Poteva anche permettersi E Ghiro Per questo Da team manager L'ha sempre detto Quando tu non ti senti Mi dici Io non parto Non parto per un certo motivo Non vengo neanche alla corsa Perché tu sposi Un programma Il programma ti porta Da qualche parte Mentre se tu dici Vabbè c'è la gara Vado C'è la gara Vado Poi ti ritrovi alla fine Che hai le noccioline E non hai niente E non hai niente Sì sì Sono abbastanza d'accordo Alla fine Luca non è mai entrato in gara Quest'oggi Si è ritirato Eh sì Si è visto E si è ritirato poi A due giri e mezzo Dalla fine Proprio nella zona tecnica Era un po' incredulo Sai quando dici Porca miseria Potevo Potevo stare a casa Oppure Qualche domanda Se l'è fatta Però Se l'è fatta Ecco Poi parlando di italiani Nadir Che è ritornato in Italia Con una squadra italiana Ha ritrovato un po' Il suo livello Anche qua Sta credendo un po' Di più Nei suoi mezzi Perché oggi Ha fatto veramente Una gara strepitosa E devo dire Che è un altro Su cui immagino Celestino E la nazionale Possa tener conto Sì sì E dall'inizio Della stagione Che va forte Dall'inizio Della stagione Che come dici tu Ha fatto un passettino Cioè un passo Ha ritrovato Confidenza Perché Voglio dire Sono tutti forti Sti ragazzi Sono tutti forti Quando hai la confidenza E la condizione Stai bene E arrivi davanti Poi Se stanno tutti bene Stanno tutti confident Li vedrai tutti più vicini È chiaro che uno arriva Primo E uno ventesimo Però se il ventesimo Prende quattro minuti È perché C'è qualcosa che non va Perché nessuno Dei primi 15-20 Prende quattro minuti Dal primo Adesso per darti Un'idea Nadir è uno che Io sono contento Di vedere Lì È un bravo ragazzo È diventato Papa Bis Come si dice da poco Quindi All the best E poi Bisogna dire anche Che secondo me Ha trovato proprio La sua dimensione Perché alla fine In Santa Cruz Lui e Luca Sono proprio Best friends Amici da tantissimo Come dicevamo Anche l'altra volta Lui è andato veramente forte Oggi Belle accelerazioni in salita Ma Ha avuto anche lui Qualche problema fisico Mi ha detto che la gamba C'era Ma era in una di quelle giornate In cui Al di là della gamba Il fisico ti dice Che Quello è il tuo livello E non puoi fare Di più Lui mentalmente Poteva anche fare Poteva anche prendere Simone Secondo me Ok Però Ha detto Qualche problema di stomaco Un po' di blocchi Generali Sì Ma ci può anche stare Insomma Anche l'emozione Di sapere che stai correndo Con gente di questo livello Fa anche quell'effetto lì È capitato Anche a me Quando correvo Le farfalle nello stomaco Sì Cioè Vuol dire Quando ho cominciato A partecipare Alle gare di livello Tipo i campionati del mondo La tensione ce l'hai Oggi Marco prima ha detto Questo è un percorso Che può rispecchiare Un mondiale No Sì Quindi Non è facile Sì E poi Un po' quello che dicevo prima Nadia era un pilota Esperto E secondo me In una situazione del genere Se non aveva quel qualcosa in più Lui non ha giocato Alla famosa quinta carta Per saltare per aria Faccio quarto Porta casi punti Sono davanti Maglia di leader Cioè Pensando anche un po' A tutta la serie degli internazionali Mentre Dici Mi gioco la carta La butto via Salto per aria Arrivo Undicesimo Subito Qua ti passano sulle orecchie Quindi secondo me Anche un po' di esperienza Ho detto Ok C'ho qualcosa in meno Arrivo fino a lì Non gioco l'ultimo jolly Perché Poi non arrivo Sì Comunque è stato bellissimo Anche Secondo me Lo scontro titanico Che c'è stato Davanti Come avete Detto anche voi Massimo Prima Vedere il campione del mondo Che vince su un percorso del genere Ma comunque Vederlo in azione Ragazzi Io Purtroppo Le immagini circolano Ma non so se vi siete resi conto Di quanto è stato inseguito Da ragazzini Adulti C'era una fanbase Veramente Veramente Gigantesca Di Nino Un po' Anche forse Oppressiva Sì Poi lui Ha dovuto sfuggire Proprio perché È totalmente pieno Di gente Ciao Dibi Schurter Schurter Nino È che comunque Lui guarda anche Tanto gli altri Anche il suo Il Cioè il rivale Colui che alla fine Diciamo viene sconfitto Da Nino Lui lo osserva molto E ha trovato Il punto Positivo Anche in uno Come Tituancaro Che comunque Oggi ci ha provato Tantissimo Ci ha provato Ha detto Cavolo Tecnicamente Tituancaro Mi ha fatto gasare Perché su un percorso Di questo tipo Come dice Marco L'abbiamo visto Dalle tue linee Ma è anche questi Tirati linee Sull'ultima discesa Nino Ha praticamente Tailwippato tutto Cioè Ogni singolo drop E diceva appunto Tecnicamente Tituancaro Gira veramente forte Mi è piaciuto Girare con lui Spero di ritrovarlo presto L'anno scorso Si sono trovati Ben più di una volta In Coppa del Mondo Caro A velocità pura È impressionante È molto bravo È molto pulito Ed è molto Concentrato Un po' alla Nino Io non ero proprio così Cioè Sono sempre andato Molto forte in discesa Ma Ero creativo Questi due Non sono creativi Questi due sono Dalle macchine Come dice lui Quindi Da A a B Qual è la strada Più veloce Anche se c'è da pagare Il casello all'autostrada Io faccio quella E questi sono Delle macchine Caro L'ho visto Ma tant'è vero Che te l'ho paragonata A Psalon prima Ha un modo Di interpretare La corsa Che Io ci vedo Un prossimo Un prossimo Pilota Che vince tanto Perché Va forte Va forte Ha la sua età Non è più Così Gio vincello Quindi Raggiungere i risultati Di Apsano No 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 Ma Sì Ho capito Il concetto È impossibile Perché Ha vinto due Olimpiadi Julien Non ce n'è un altro Però Fai attenzione Quando parli di Francia Perché Ghiro è Altamente specializzato Lui di atleti francesi Giovani Meno giovani Ho imparato Da tutti Spero che Qualche uno Abbia imparato Qualcosa da me Beh Io credo Proprio Di sì A proposito Di francesi Non so Se voi Ci avete fatto Caso Paul Magnier È uno Dei più Giovani Francesi Attualmente In circolazione Va veramente Forte Io ogni tanto Lo paragono A Pidcock Perché Hai numeri Su strada Hai numeri In mountain bike Hai numeri Nel cross È appena uscito Dalla Cape Epic E questo ragazzino È al primo anno Under 23 Sì sì Va forte Tu ti ho dato le classifiche prima Poi magari ce le guardiamo Vediamo dove è finito Ah nei primi dieci Nei primi dieci Credo vero Sì sì No senza credo Te lo sicuro Ecco E Comunque svizzeri e francesi Vengono in Italia Perché gli internazionali Organizzano questo tipo di competizioni Gli internazionali di Italia Series Sono veramente Un bel palcoscenico Tant'è vero che appunto Svizzeri e francesi E non solo Ma in particolare Diciamo le nazioni più forti Al mondo Nel cross country Diciamo parlano svizzero e francese Vengono in Italia E vanno tutti forti Giovani meno giovani Donne Tutti vanno forte E questi sono La dimostrazione Che sicuramente Si sta facendo un bel lavoro Qui altrimenti Uno non si prende su Dal cantone di Zurigo E viene a correre qua O meno di qualità Hanno la possibilità Hanno la possibilità Come Simone Come Daniele Martina Se non hanno quei numeri Alla fine Non riescono a stare lì Cortinovis Special Sarà Sarà Anche Esatto Decimo comunque Paul Magnier Vedi Lo prendiamo Dai Facciamo la squadra Lo prendiamo Abbiamo sempre in Francia Però prima gli italiani Questo sarebbe stato Un atleta da Ghirotto Ti hai visto Secondo te Che può avere Un bel futuro Anche tra gli junior Non ne abbiamo parlato Ma anche la gara junior È stata veramente Interessante Diego Milan Ha vinto Gabriel Borre È stato un po' Un po' sfortunato Un po' molto Un po' molto sfortunato Era davanti Sì esatto Ha avuto un guasto meccanico Credo no Una foratura Una foratura Al posteriore pare E lui è formissima Cioè adesso veramente Interessantissimo Sto ragazzo qua Parentesi Sì Parentesi Ha bucato Anche a San Zeno di Montagna Chiusa Vero 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 Ha bucato Cosa ci sto qua a fare Io se non dico queste cose Se no mi mandate via Cioè vado via Grazie Don Marco E quindi siamo nella teoria Che se fuori due volte Una volta perché sbagli E una volta perché Sei sfortunato Attenzione Questo è un argomento Se hai bucato Qualcosa è sbagliato È successo Esatto Di chiuderlo un attimo E farlo un po' più lento Perché non aveva Nessuna difficoltà tecnica Era bello da vedere Fotografare Ci sta nel contesto Pazzo dell'isola d'Elba Con Con le miniere Eccetera eccetera Però sostanzialmente Era una spianata di roccia Dove tu passavi dritto Se passavi così Bucavi Bisognava chiudere il gas Io mi ricordo tante volte Parlando di Nino Schurter Che in alcuni tratti Dicevi Ma perché va piano Lì Nino Schurter Perché non è mica Locco come dicono a Piacenza Mentre Quel settore lì Era proprio il classico Settore dove dovevi chiudere Perché non guadagnavi niente Ma potevi solo bucare Io non so se ha bucato lì Però Esempio Potrebbe essere Che abbia fatto un piccolo errore Via Sì Potrebbe Potrebbe Di fatto però Potrebbe Condizionale Io non lo so Esatto Io l'ho visto fermo All'area tecnica Alla seconda area tecnica Sostituire la ruota E poi ripartire Ripartire forte Lui ci ha provato Ha preso Deve essere stato un punto Molto lontano Perché lui ha preso Subito un minuto Netto di svantaggio E lì sai Ricucire Ricucire diventa difficile Nel traffico Delle retrovie Per cui Sì Non è una pista Dove si recupera facilmente È un percorso Dove i 10 secondi Per ricucirli O vai tanto più forte Oppure Non è facile Ricucire Mi era arrivato A 40 secondi Perché io poi Ho misurato E ho detto Ma non ce la farà Perché quello che aveva speso Sempre sul discorso Pratico Delle 5 accelerazioni Le aveva già fatte Però Ragazzo molto interessante Che va Seguito Va Gestito Per la sua squadra Lo diciamo Perché questo Potrebbe avere anche Qualche Da portare qualche medaglia Pesante Per l'Italia Quest'anno Lui ha iniziato Veramente Veramente bene Veramente bene Fisicamente Stutturato Maturo Belli ragazzi Da prendere Quindi tu avevi gli occhi Su di lui Oggi Però Di Diego Milan Ma se li avevamo tutti Onestamente Perché ha vinto tutto Recentemente Poi c'aveva la maglia Di leader C'aveva anche quello La sua intenzione Comunque È da Sanzeno Che dice Io voglio Difendere questa maglia Ecco Sanzeno Ha bucato È stato passato L'ha ripassato Esatto Però vedi anche questo Questo fatto Cioè Che abbia vinto Milan Comincia a essere bello Anche dal punto di vista Come dire Del confronto Perché non c'è solo lui C'è anche Milan Ne arriveranno degli altri Paccanella Anche Paccanella Oggi Forse L'ho visto un po' Sotto tono Inizialmente Inizio gara Era davanti Però è un altro ragazzo Con i numeri A me a casa Allo stile di Paccanella Come guida Mi piace Ma sono i capelli Secondo me Perché ti ricorda Un po' In biondo Però ecco Quindi Da un punto di vista Ecco Giovanile Stanno crescendo C'è un bel vivaio C'è un bel vivaio E anche La stessa federazione Grazie ai propri tecnici Grazie anche A collaborazione La dottoressa Borgia Stanno facendo Stage Valutazioni Stanno incamerando Dati Che servono Proprio In funzione Di capire Questi Questi atleti E questi atleti E' importante Questa cosa Ci spieghi brevemente Ghiro Qual era lo scopo Qual è il tuo scopo Di essere qui Quest'oggi Beh io Il mio ruolo È principalmente Quello di Seguire le problematiche Che succedono Durante le gare Perché La commissione fuoristrada Che io Indegnamente rappresento Ha Lavora sulle norme Cioè Quello che sarà Il prossimo anno Di tutte le specialità Dal ciclocross Al BMX Fuoristrada Al DH All'enduro Tutto quello che vive in mente Ai gravel E poi i calendari Cioè Riuscire a incastrare Dei calendari Che La crescita è esponenziale Abbiamo tantissime richieste A volte Difficile Difficilissimo Difficilissimo Incastrare Tutte Le richieste E Assecondare La volontà Di organizzare È facile Poi Cioè È facile Ma Bisogna anche dire Di ne ho delle volte E questa è la parte Difficile Quindi questo è il ruolo Della commissione Fuoristrada Venire qua Stamattina Avete detto prima C'è stata la difficoltà Di fare una scelta È stata fatta I giudici di gara Il DOF Che è il responsabile Della gara Il settore fuoristrada E abbiamo deciso Di fare questa cosa Poi dal punto di vista Tecnico C'erano i CT E loro hanno Il loro ruolo Esatto C'era anche Mirko Celestino Per l'appunto Tiberi C'era Tibi Sì 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 Marco prima ha detto Una cosa Interessante Che ha visto In Carò Una possibilità Di vederci Un Un nuovo Absalon Io invece Questa domanda La rivolgo a te Secondo te Cioè Tra questi Giovani Giovani E meno giovani Un Prossimo Absalon Un prossimo Nino Ma stilisticamente Diciamo Più Più Vicino Absalon Sai Io arrivando Dal mondo Della strada È come Mi chiedessero Chi potrebbe essere I Gimondi Piuttosto che Il Merckx No Non ce n'è Non ce n'è Quei due lì Sono mostri sacri Che hanno raggiunto Una vetta Difficile Da raggiungere Molto difficile Magari fra un po' di anni Arriverà un altro Shurter Ma tanti anni Faccio un paragone Semplice Che non è nel mondo Del fuoristrada Adesso stiamo vedendo Il Lady Merckx 2.0 Che è Pogacar Vero Ne parlavamo giusto Stamattina Da quanto tempo Non ne arriva Uno di quel livello Che vince Classiche Che vince Giri d'Italia Cioè Grandi giri Nel fuoristrada Bisogna attendere Adesso a Shurter Era ancora qua Esatto Quando fa Quelle comparsate E anche Tom Pitcock Campione olimpico Di mountain bike Cavolo Anche Quello è un bel vedere Sicuramente Questa Questa sua appartenenza A un team Così radicato Sulla strada Ma forse anche Una sua visione Un po' Un po' Personale Gli vietano Un po' Di trasformarsi In quello che è Nino Shurter Perché secondo me Lui è quello Più vicino In assoluto In assoluto Al di là Dei vari Van Der Poel Eccetera Vedremo anche Quest'anno Sarà un interessante Marco Vedere anche Chi tornerà poi Dalla strada Perché visto Quest'anno Ci saranno Milan Wader Samuel Gaze Appunto Van Der Poel Eh cavolo Adesso Cominciano ad essere In tanti Quelli che fanno Proprio questo Koretsky Anche bravo Questa multidisciplinarietà Disciplinarietà Che passano un po' Strada un po' E soprattutto In un anno Come diceva Come diceva Ghiro Che Sicuramente Quest'anno No col Pipo Colombo Quest'anno Possono giocare Un attimino di più Perché non c'è Non ci sono i giochi Perché saranno L'anno prossimo Però È già un anno Importante È già un anno Preolimpico È già un anno In cui si Puoi fare Sei coretsky Chiaro Hai vinto Bla 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 È chiaro Che se tu ti metti A giocare Un po' di qua Un po' di là Non porti a casa A fine anno Ti ritrovi tre davanti E poi devi Riconquistarti il posto Riconquistarti il posto Significa Non partire A gennaio Febbraio Io ho vinto Io ho vinto una medaglia Ho fatto tre olimpiadi Ho fatto un quinto E un terzo Perché andavo forte Perché andavo forte E perché la federazione Mi lasciava la possibilità Di fare il mio cammino Quello che voglio dire io È che gioca pure È vero la multidisciplinarità Ed è importante Ma con un bel programma Strutturato Perché poi rischi Di non ottenere di qua Non ottenere di là E poi magari devi ancora Rigiocarti la qualificazione Un conto è dire A gennaio febbraio E l'abbiamo visto Alle ultime olimpiadi Parere mio Poi magari qua scateno Il macello Ma su youtube è importantissimo L'ultima olimpiade Noi siamo andati Con due italiani Che comunque C'è stata tanta lotta Per la posizione Per prendere il posto È stata sofferta Non è facile Arrivare a gennaio febbraio E doversi ancora conquistare Il posto Significa che poi Quando è agosto Qualche energia L'avrai già giocata Anche mentalmente Capito? Non è facile Quindi io dico Per questi che fanno La multidisciplina Va bene Perfetto Perché io l'ho sempre fatta E assolutamente Adesso è diventata Una cosa importante Però con un bel obiettivo Quest'anno sarà il primo anno Dove abbiamo i mondiali a Glasgow Quindi ci saranno tutto Pista, strada Inseguimento BMX Tutto Quindi Bisognerà fare un bel programma Perché questo È quello che ti porta A un risultato E lo dico Come conoscenza generale E anche per i nostri giovani Che ben venga È importante fare tante discipline È importante imparare Perché poi abbiamo visto Che quelli che vincono Fanno più discipline Perché comunque Sanno affrontare situazioni Noi in passato Abbiamo avuto gente Che magari Aveva un sistema di coro Correre limitato Perché se tu fai anche il crossista Sai andare forte col freddo Sai andare forte col fango Se tu fai anche lo stradista Sai cosa vuol dire Fare una piana a 50 Col vento che sventagli Capito? Sicuramente questo sì Però Rispetto a quello che dici tu Adesso voglio vedere Perché poi sai Pippo Colombo Con Q36 Victor Speciale Sono team che richiedono tanto E devi stare bello sul pezzo Proprio come Pitcock Sarà veramente interessante Vederli rientrare Proprio contro questi ragazzi qua Che invece Sono nella sabbia E con le ruote sulla terra Da inizio stagione Nino dicevamo che è tornato Proprio poco tempo fa Dalla Cape Quindi sarà veramente interessante Vedere quando poi Si ritroveranno tutti Tutti insieme Nelle prime sfide Fuoristrada Io vi voglio ringraziare Massimo Grazie per la tua presenza qui Grazie a voi È stato un piacere Grazie Marco Noi ci ritroviamo Al prossimo appuntamento Che sarà Che sarà quello di Esanatoglia Non vedo l'ora Non vedo l'ora Perché è un posto Che ci sono No ci sono già stato Mi piace La gente è super ospitale È la prima volta Che gli internazionali Vanno in Esanatoglia Esattamente È la prima volta E è un posto cool Mi piace quando ci spostiamo Anche un po' verso sud Perché c'è una valanga A parte che è una valanga Di tifosi al sud Esanatoglia non è al sud Però è bello spostare un po' Diciamo il mondo Della mountain bike italiana Perché ci sono tantissimi gente Prima ho parlato Con una ragazza sarda Che comunque Si fanno degli sbattimenti Sti ragazzi incredibili È la passione Pensate alle famiglie Le squadre Spendono soldi Fanno trasferte C'è un problema Ci mettono il tripolo del tempo Quindi è bello anche spostarsi Leggermente verso sud E andare su terreni Magari diversi Gente diversa Quindi sono molto carico Ma dimmi un po' Ma ti porti anche La sdraio qua Da spiaggia Questa è la mia Questa è la mia Comodissima peraltro Tutte le volte Faccio gli addominali Signori ci vediamo A Sanatoglia Rimanete sul pianeta Mountain bike Ormai Mi ha rubato anche il ruolo Mi ha rubato Neanche la chiusa Mi fa fare Basta basta Senti Prendi la bici E vate a fare un giro Adesso Ciao a tutti ragazzi Alla prossima Ciao Guarda che scatto Che ha fatto Fontana Per recuperare Un sacchetto Del limondizio Sembrava fosse Il suo proprio Vabbè